Amici di Metal.it, buonasera e ben ritrovati alle nostre interviste. Io sono Sbranf, come al solito qui nel vostro ripadrino di destra, credo, o di sinistra, se lo fate voi, e alla mia sinistra o destra, ladies and gentlemen, Alessandro Conti. Sopra giovana, ciao a tutti i ragazzi. L'abbiamo tenuto nascosta, domani lo dico già a tutto il mondo intero. Allora, prima di cominciare, intanto Alessandro ti ringrazio per essere qui con noi e dobbiamo subito mettere in chiaro il loop temporale nel quale si svolgerà questa intervista. Perché? Va bene. Perché in realtà nel momento in cui noi stiamo parlando il nuovo album dei Freak or Treat non è ancora uscito, uscirà fra tre ore, tecnicamente. Forse, io lo sanno. Invece quando voi vedrete questa intervista, il nuovo album dei Freak or Treat sarà uscito da un paio di giorni, perché questa intervista, quindi oggi è martedì. Sarà anche prima in classifica quando vedrete questa intervista, probabilmente. Esatto. Allora, ovviamente, come avrete capito, la scusa per rincontrare il buon Halle è l'uscita del nuovo album dei Freak or Treat dal titolo The Unlocked Songs, uscito il 21 maggio scorso per Scarlett Records e ormai è in testa a tutte le classiche. A te le parole intanto... Da giorni anche. Da tempo in me. A te le parole, le prime parole per parlarci un po' di questo CD. La domanda è già difficile, è così, bruciapelo. Diciamo che è una cosa un po' strana, inizialmente doveva essere un EP con 4-5 brani, poi dopo aggiungi aggiungi trovavamo sempre qualcosa di carino da mettere, bonus track, cover nuove che avevamo al cantiere o registrato e inedite, alla fine è venuto fuori un album vero e proprio. Quindi è un ibrido tra album di inediti, cover anche quello inedite, bonus track e qualcosa di registrato. Infatti ho visto che c'è dentro un po' di tutto, adesso stavo dando un'occhiata alla track list, anzi adesso se ti va facciamo un track by track super velocissimo, perché in realtà lo possiamo considerare il settimo album dei Trick or Treat, come lo potremmo considerare un sesto e mezzo? Sesto e mezzo, dai. Sesto e mezzo? Mi piace sesto e mezzo. Anche Rani Meta era un mezzo album, perciò facciamo che il sesto. Facciamo che il sesto piede. Peraltro ho letto in giro che questo sarebbe, non so se è un lancio della Scarlett, ma o se è un fatto vero. Anche questo sarebbe, diciamo, un po' un album celebrativo dei vent'anni di vita della band. Ora discograficamente no, ovviamente, però quando è nata? Vabbè, è nata nel 2001, davvero? 2002, sì sì. Ok. Quindi l'anno prossimo facciamo vent'anni, poi in realtà discograficamente è il primo album del 2006, quindi abbiamo fatto degli anni da Tribute Band degli Halloween, il demo e poi siamo arrivati all'album. Diciamo che l'anno prossimo sono vent'anni e pensavamo di fare qualcosa e poteva essere questo che, come è venuta fuori a Locked Song, poteva essere qualcosa che sarebbe potuto uscire anche l'anno prossimo come celebrativo dei vent'anni. Tuttavia, visto la quarantena, visto varie vicissitudini di non poter registrare l'album nuovo, l'abbiamo fatto uscire adesso, perciò facciamo che sono vent'anni in anticipo. Va bene, come facciamo che oggi... Non si festeggia mai prima, mi porto a sfiga, però... Però sì, va bene. Dunque, dodici canzoni, dodici brani, il primo dei quali è l'ormai celebratissimo Hungarian Hangover, che già dal titolo è tutto un... La famosissima cantata da tutti i metallari. Da me è molto cantata, l'ho veramente apprezzata un cavolo. Dimmi due parole su questa canzone qua. Guarda, questa canzone nasce nel 2014 e non ho mai preso... Non ho mai trovato spazio in un album, perché dal 2014 facciamo solo dei concept. Quindi il prossimo album in studio sarà il primo album dopo un sacco di anni che non sarà un concept, quindi saremo liberi di spaziare le tematiche anche nell'atmosfera che vogliamo. E quindi non potevamo mettere... Diciamo che il refrein, e ritornando, nasce durante il tour Corsionatartica del 2014 e il titolo celebra una serata, un concerto a Budapest che fu... Non ricordo molto, ma mi ricordo che fu bello. L'impegno... Esatto. In realtà poi il testo stesso non è che parli tanto di quella serata lì a Budapest, parla più. È proprio un testo celebrativo quasi di questi vent'anni. Il testo è stato scritto per questo album, perché avevo solo il tornello, e quindi visto che c'era il discorso della quarantena, anche tutto l'album a tema un po' quarantena, che siamo chiusi a casa, è visto in questo visuale. È un testo divertente, positivo, non troppo impegnato come testo ovviamente, però insomma così. Happy. Happy. Beh, nella migliore tradizione, mi vieno a dire. Dunque, posto numero due entra Almost Gone. Sì, Almost Gone invece è un brano totalmente opposto, nel senso che è una power ballad molto introspettiva e molto anche abbastanza triste, sia come testo che come musica. L'ha scritta tutta a guido, quindi diciamo che riflette l'altra metà di quello che siamo stati costretti a vivere in questo anno e mezzo, no? di vari casini, non è stato un gran periodo per nessuno, quindi insomma. Ok, quindi diciamo che le preeducazioni sono un po' lo yin e lo yang. Esatto, bravo. Non ci avevo pensato, ma d'ora in poi utilizzerò questo. Nelle prossime interviste. Sono cinque euro. Citazioni di sbattro. Molto bene. Andiamo avanti. Beh, a posto numero tre ci sono i Cavaliere dello Zodieco. Di che parliamo, insomma? Non ve ne è liberato proprio più di questi Cavalieri. No, no. Diciamo che abbiamo registrato questo brano un po' per... Tutto Unlocked Songs è un po' una summa di quello che abbiamo fatto in tutti questi anni di carriera, di onoratissima carriera. E quindi una nuova canzone, una nuova sigla di cartone animati per proseguire quello che è stato con Reanimated, che è stato un grande successo, ci poteva stare. E visto che la prima sigla che avevamo pensato di mettere anche in Reanimated non la mettiamo perché decidiamo di mettere Pegasus Fantasy con Yuri, che è una canale giapponese. e quindi rimase fuori questa qui, però era un po' rimasta nel cuore. Poi dopo abbiamo fatto il disco del 12 Saints sui Cavalieri d'Oro e questo era un po' una connessione che ci poteva stare. Assolutamente. Al quarto posto vedo una cosa che ha a che fare con i videogames. Dopo ne parleremo. C'è Dragonborn Skyrim. Esattamente. Allora, questo è un brano che fa parte della soundtrack di Skyrim, di Elder Scrolls V. È uno dei videogiochi di cui siamo più fanatici, ci siamo sfondati di una sedicina di ore. Tutti quanti, esattamente. La soundtrack è piuttosto famosa tra chi videogioca, diciamo. Ma anche chi no, l'hanno anche già fatta coverizzata in diversi. Diciamo che noi abbiamo pensato di fare questa cover un sacco di anni fa. Poi l'idea, io sono molto fan di questo videogioco, che è uscito nel 2012. E in realtà questo brano qua doveva essere, non la versione che trovate nell'album, però una cover di Dragonborn doveva essere come bonus track di Prometheus di Turilli. Oh. E registrammo tutte le voci. L'idea esiste da L'Ombelpo. Sì, sì. È stata registrata in Germania la voce. E praticamente con Luca registrammo tutte le voci. E c'era solo una base acustica per seguire il tema. Quindi la musica di fatto non esisteva. Registrammo però tutte le voci, tutti i cori, che sono cori molto epici, molto in stile anche proprio rapsoli. Tra cui tra l'altro tra i coristi c'è anche Ralph Shipper. Quindi insomma... Oh, così buttalo via. No, lo teniamo volentieri. Poi per Prometheus non riuscimmo a inserirla, perché l'album era veramente molto lungo già, come minutaggio. E avevamo già una bonus track molto forte, che era una cover di Riot con Ralph Shipper. E quindi rimase fuori. Rimanendo fuori, poi quando... Molto tempo dopo, sapendo che l'idea era stata mia di fare quella cover lì, che mi piaceva molto, Luca mi chiamò e mi disse, ascolta, io ho queste registrazioni qua fatte a Kenten, se ti va, te le mando, così le usi con i trick, potete fare... Allora, questo già più di un anno fa. E quindi dopo, con questa idea qui, ho ricontattato Luca e me l'ha mandato. Sono molto gentili a cedermi il progetto. Quindi c'è un po' anche di rhapsody in questa maniera qua, no? Comunque la base è stata completamente riscritta poi da Guido, seguendo un po' anche la linea originale della song. Però sì, c'è anche questo piccolo anello di congiunzione con la carina di rhapsody. Yeah, al posto numero cinque, il titolo forse più bello della storia dell'heavy metal, tutto, cioè Heavy Metal Bunga Bunga, attenzione, ti prego di approfondire l'argomento. Beh, sì, anche questo è un brano che abbiamo fatto diversi anni fa, negli anni del Bunga Bunga, che adesso sembra un secolo fa, e probabilmente i ragazzini più piccoli che vedono questa intervista non sanno neanche di cosa stiamo parlando. Però insomma era una questione... Eh, cosa vi siete persi? Leggete l'idea di storia tra qualche anno. Madonna! E niente, è un pezzo, comunque, è l'unico pezzo originale in italiano che abbiamo fatto fino ad ora. E' l'unico pezzo di satira politica che abbiamo mai fatto e probabilmente che faremo. Non ci piace, non ci piace trattare di queste tematiche qui, però in quel contesto lì storico ci stava, è un testo divertente, non è schierato politicamente contro tutti. Ottimo, così ci piace, perfetto. La cosa del Bunga Bunga è al di là della politica, cioè è diventato un fenomeno di costume, è una cosa... Guarda, a distanza di anni, a distanza di anni, riascoltando il testo fa quasi simpatia e tenerezza, quindi ci sta. A viverlo magari c'era un pochino più di... Boh, non so, all'epoca c'era un pochino più di rabbia che montava, però... Un po' più di schifo, magari. Sì, ho visto come sono evolute le cose al mondo, non ero neanche così messi nella situazione. La prossima canzone, nella scaletta, nella tracklist, è una cover dei Misfits, ossia Scream. Come vi è venuto almeno? Sì, questo brano qui, vabbè, noi siamo fan dei Misfits, diciamo che è una delle band fuori dalle nostre corde che ascoltiamo più volentieri. Non ci assomigliate? Non vi assomigliano? No, 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 è vero, però specialmente Famous Monster, l'album dove il contenuto Scream è proprio un album fighissimo, secondo me. Anche alcune atmosfere si rifanno molto ad Halloween, Trick or Treat, insomma, quindi ci sta. Ovviamente è tutto in chiave un po' più punk, però noi un po' punk siamo dentro, quindi... E questa la registramo per... Ce l'ha chiesto diversi anni fa un ragazzo che stava girando un corto di un film horror di Zombie e voleva inserire questa come soundtrack e ce la, tra virgolette, commissionò. Poi non so a che fine abbia fatto, penso che il corto non siamo riuscito. Però, insomma, noi il test l'abbiamo riregistrato e adesso è in versione nuova. Quindi tutte le canzoni di The Unlocked Song sono riregistrate? Tutte sono riregistrate, sì. Sono tutte buone di pacche. Sì, anche quello che magari avevano stracche che erano uscite anni fa, sono comunque riregistrate totalmente fedeli. Più che altro è un restyling di sound e produzione, più che di aromamenti. Ovviamente abbiamo cercato di tenere tutto fedele. All right. Dunque, andiamo avanti con Human Drama. Esattamente. Proprio nel caso di Human Drama, per esempio, che era la bonus track giapponese di Teen Soldiers, l'abbiamo inserita, abbiamo riregistrato tutto quanto, ed è una versione originale, non tagliata, sulla bonus track giapponese, visto che era una bonus track, un pezzo aggiunto sul permercato giapponese, e il minutaggio era troppo lungo, perché durava otto minuti o qualcosa. E ne abbiamo approfittato, che in questa versione qui è completa. Quindi anche qualcosa. Poi c'hai Hampshire Landscapes, che nome suggestivo. Il nome suggestivo, è una bonus track, sempre del bonus track giapponese, di Rabbit's Tale. è praticamente la location dove si svolge la collina di Cunì. E quindi è insomma dedicato, ambientato. Poi c'è qualcosa che ha di nuovo a che fare con i nostri amati cavalieri, cioè Sagittarius Golden Arrow, in versione Acoustic Orchestral. Esattamente, sì, con l'aiuto di Lucatti, di Alessio, che c'è. Oh! Sì, è una versione alternativa di quella che trovate, che si può trovare su The Legend of the Terrell Saints, e quindi sì, è un pochino più... E Alessio l'ha anche arrangiata? Ma guarda, Rally Tastiere, in questo caso qui, su questo brano, le aveva composte, inizialmente Luca Venturelli, e aveva fatto gli archi così. Poi Alessio ci dà sempre un colpo finale, che è lucido. Ovvio. Ok. Io in scaletta ho Evil Needs Christmas 2. Questa è una bonus track di Natale, che registrammo un sacco di anni fa, e questa non è... La voce almeno non è registrata, quindi è proprio la versione... Perché non è mai stata... Sì, non è mai uscita negli anni, se non per YouTube, l'avevamo messa per Natale, anni fa. E quindi... In che anno l'hai registrata? Ma sai che... Secondo me doveva essere nel 2012, 2013, una cosa del genere. Sai perché? Che tipo, stavo pensando, ma quando ti riascolti dieci anni fa, ti riconosci? Cioè, ti è cambiata la voce? Che ne pensi? No, per fortuna no, non è cambiato tanto. Non parlo di estensione, proprio di timbro, di... No, è cambiato il timbro? No, sinceramente non tanto. È cambiato magari l'approccio, la tecnica vocale e la metodologia di come l'applico. Però, se... Anche ricantando i pezzi vecchi, il suono tipo di Omandrama che originalmente l'avevo registrato nel 2000... fine 2007, addirittura, riregistrandola praticamente devo dire che sono quasi uguali. È cambiato l'approccio. Non canto più spesso in quella maniera lì, nel senso che in quegli anni come processo normale di tutti i musicisti tentavo di imitare molto Kiss e seguire un po' quel percorso lì che sicuramente all'inizio ha aiutato perché comunque sia quando sei in totale sconosciuto il fatto di avere magari un modo di cantare che ricordi qualcuno di famoso può aiutare a livello... Poi dopo al contrario quando cominci a essere un pochino più conosciuto diventa un deficit e se vuoi fare il salto di qualità devi trovare un tuo percorso che quando ascoltano un disco dicono quello è Aude Dickinson, Kiske o chi per loro. Assolutamente. E devo dire che il salto grosso per me è stato l'anno in cui sono entrato con Luca Torelli di Rhapsody ci siamo proprio con Luca chiusi dei mesi in studio a fare cover prima poi a registrare l'album per trovare una dimensione più personale studiando altri cantanti che ci piacevano anche lì fuori del metal totalmente cercando di prendere qualche sfumatura qualche accorgimento tecnico che potesse essere figo. Io mi ricordo quando intervistai Luca per Ascending to Infinity credo quindi il primo anche se poi ne parliamo dopo di Luca Torelli e di tutto il resto comunque mi ricordo che lui mi disse questa cosa che ci lavoraste in studio o meglio che lui ti chiese un sacco di demo di qualsiasi roba dal pop da Albano mi ricordo un po' di nomi proprio perché lui voleva insomma sondare tutte le sfumature possibili immaginabili devo avere qualche un harddisk da qualche parte delle cose di Unlocked harddisk uscirà un giorno esatto prossima pandemia no ti prego allora in scaletta nella scaletta ufficiale del disco che avete già comprato amici ascoltatori lettori di Metalit noi invece no cioè io no c'è a questo punto Harles cosa si chiama la canzone che mi hai detto che io non ho scritto Harles Hall le stanze di Harles e questa è la bonus track di The Legend of The Dead of the Saints che però si trova solo nell'edizione d'oro anzi aspetta che ce l'ho qua se non faccio crollare tutto vai vai questa questa qui a Tanziona che oggettivo rarissima questa era solo per chi ha contribuito il crowdfunding del disco quindi è stato stampato penso in meno di 500 copie una cosa del genere e c'erano un paio di pezzi in più e una è Harles solo che è una strumentale molto tirata molto ipertecnica e quindi ottimo se suonate la chitarra vi piacerà e anche se cantate magari vi piacerà va bene chiude o quasi l'album un demo del 2004 qua siamo proprio agli albori dei dei trick or treat infatti si chiama Like Donald Duck penso sia il primo possiamo dire che è il primo singolo che ha scalato le classifiche no però sì devo dire che cazzo che ci pare perché che ha scalato sì e diciamo sì è stata la prima canzone che mi ha scritto in assoluto ci piaceva chiudere questo disco un po' come macchina del tempo che apre con un inedito nuovo di Zecca e chiude con il primo pezzo che mi ha scritto nel 2003 poi uscì nel 2004 sul demo e all'epoca prima suonavamo un sacco perché come tributo a Halloween in quegli anni lì gli eravamo molto richiesti e per tutti i concerti ci masterizzavamo un po' di copie nelle bustine senza custodia con la copertina stampata e gli regalavamo alle prime file di chi veniva i concerti quindi qualcuno cioè in diversi ce l'hanno la versione originale e ce l'hanno anche chiesto qualcuno c'erano quattro brani che poi sono tutti contenuti nel primo riregistrati ovviamente contenuti nell'album Even in Scani 2 e insomma abbiamo voluto mettere questa versione e come bonus perché comunque la produzione è quella di una band di ventenni e neanche emergenti senza soldi però insomma suona suona dai suona sì dunque chiude l'album quale c'è un'altra canzone dopo like Donald Duck giusto? sì proprio agli inizi siamo sempre in questa macchina del tempo è una registrazione live del 2003 quindi penso che fosse inizio del 2003 uno dei primissimi concerti di Tricor Treat il primo concerto di Tricor Treat è stato il 4 dicembre 2002 quindi sarà stato nei primi dieci concerti ed è ma live degli Halloween di solito mi sembra caprissimo con quella brano lì e c'è una registrazione abbastanza buona per i tempi ovviamente è contestualizzato quello che è ma infatti anche questo è una bonus però è anche questa una fotografia dell'evoluzione di dove siamo partiti di proprio gli albori assoluti sicissimo mi sa che tutta l'intervista di oggi sarà impostata così con la macchina del tempo perché siamo partiti dal disco che è uscito nel discorso continuo a ripetere e andremo un po' a ritroso nella storia prima di lasciare The Unlocked Songs con i miei potenti mezzi visto che ho studiato sono studiato ti faccio vedere la copertina parliamo un attimo di questa copertina che è piena di easter eggs l'hai disegnata tu ovviamente come al solito yes l'hai realizzata come con che tecnica con un ipad pro e pro create ok quindi è disegnata direttamente sul pc in questo caso qua si proprio disegnata da zero tra l'altro penso non so se sul profilo dei trick di instagram o sul mio personale c'è anche tipo lo speed drawing proprio dalla bozza iniziale che velocemente si va a dipingere fino fino all'opera completa e sì hai detto bene è una copertina piena di easter egg perché ci sono tutti gli elementi presi da tutti i dischi esatto e poi ci siamo noi in versione zombie perché insomma siamo in fase di quarantena stay home scritto sulla finestra sbarrata un po' come se questa epidemia al posto che il coronavirus fosse zombie virus di the walking dead esattamente sì e poi c'è il coniglio c'è il teen soldier esatto c'è una caramella dentro la caramella troverai la zucca attenzione attenzione perché c'è I'm alive e c'è la meridiana dei cavalieri c'è il mostro con il lecca lecca che è di e poi lo scrigno esattamente lo scrigno che potete trovare in skyrim il videogioco quindi hai visto sì c'è proprio di tutto questo e poi che altro io adoro pulciare mi sa che c'è tutto proprio lì c'è qualcosa sulla tenda no dei buchi sono le mie paranoie quello a posto insomma top the unlock songs uscito il 21 maggio 2021 a cattatevillo a cattatevillo a cattatevillo adesso con al iniziamo a viaggiare indietro nel tempo visto che siamo al 2021 e parliamo di in ordine strettamente cronologico al contrario dei twilight force dove tu entrasti diciamo debuttasti del 2019 con dawn of the dragon star giusto? come come ci sei finito? guarda ci sono finito grazie alla lucra blast che era è la loro etichetta e era la mia etichetta con il lucatore di rapsoli no? quando luca fece la reunion prima il tour celebrativo per la reunion noi lo sapevamo un po' prima ci fermiamo un attimo a discutere anche per con i ragazzi di nuclear e se ci avrebbe una possibilità magari di fare qualche altro progetto per comunque tenere una linea artistica che mi non dico includesse però insomma che se c'era qualche opportunità lavorativa nel campo che mi piace fare la fattispecie era nel genere che avevamo costruito con il lucatore di rapsoli perché comunque ovviamente non è che è un genere nato con quella band lì perché luca ha il suo trademark però insomma ci sono sfaccettature che secondo me avevano preso una certa personalità e proprio in quel periodo lì christian dei twilight force andò via dalla band e quindi nuclear mi disse guarda ci potrebbe essere la possibilità io oltretutto i ragazzi li conoscevo già li avevo incontrati in tour in italia con i suonata artica e mi ricordo che che philip dietro i camerini venne a salutare mi dice ma grande tu sei il mio cantante preferito mi dice questo un paio d'anni prima quindi gli ho detto beh dai la musica ovviamente era un po' diversa nel senso un pochino più diretta e un pochino più ingenua se volete meno elaborato esatto nel senso buono della parola rispetto a prometheus per esempio però devo dire che sia meno elaborata di prometheus ok in effetti sì però poi in effetti penso che dragon star sia l'album più vicino più elaborato dei tre fatti dai twilight force e ci sono diversi punti in comune oltre alla mia voce con le parti più epic più speed di di turilli quindi penso che per me diciamo è stata una naturale continuazione ed è un genere che proprio a me piace ancora fare mentre che nel genere che faccio tra musicisti che ci conosciamo c'è un sacco di gente che continua a fare musica a perpetuare il proprio genere perché sono diventati magari famosi con quel genere lì e magari non sono più appassionati dico vorrei fare altro io invece fumo metallaro dentro mi piacciono anche altre cose per il mio motivo però quando apro la bocca e canto a me piace ancora fare quella roba lì e anche le tematiche fantasy cioè io sono un ex giocatore di magic e di gathering che poi è come una tossicodipendenza ex nel senso che ho venuto di canto però gioco comunque online e quindi io ho iniziato a cantare contestualmente a quando giocavo a D&D giocavo a magic quindi sono passati 25 anni e faccio ancora le stesse cose una maniera per mantenere sei giorni ho giocato un bel po' ed è una cosa che non se ne va ti rimane attaccato poi non so se tu hai mai fatto il master o solo il giocatore è una malattia è un lavoro anche se lo fai con un minimo di di criterio è una cosa allucinante perché devi conoscere tutto di tutto devi chiedere lo stipendio non ti bastano le ore anche perché poi devi contestualizzare un po' la storia poi devi creare un po' di trama però ti devi ricordare tutti i personaggi le abilità le cose le skill che tipo di compagnia è veramente un casino bellissimo se non l'avete mai fatto cari lettori ma non lo so ci giocano ancora ma sì che ci giocano sì c'è stato anche un po' di ritorno di fiamma dopo Stranger Things che so che avevo letto che c'era un ritorno un po' di moda e comunque sia sono quei giochi che ci sono da talmente tanti anni che è un po' come il Monopoly ci giocheranno sempre non te la monterà mai nei Twilight Force tu c'hai un nome d'arte e un vestito una divisa vestito fa schifo il vestito ce l'hai per forza lo vai in giro nudo una divisa è una cosa tipicamente fan cioè fa molto fantasy fa molto ti piace questa cosa o è una cosa che fai perché fa parte del pacchetto ma che se tu potessi scegliere no no è figo va visto nel contesto in cui è che fa parte dello show dello spettacolo quindi è proprio la musica oggigiorno comunque la parte maggiore più importante però quando sali su un palco devi portare anche uno show che diverta e che faccia parlare di sé è un po' un ibrido tra un concerto metal e qualcosa di più teatrale ed è una ricetta a cui si stanno attingendo in molti cioè ti pensa ai Power Wolf o quei vampiri o di Cantropi oppure il Sabaton con la guerra cioè qualcosa in più è ovvio che ma non ha inventato niente nessuno nel senso che dai Kiss in poi pensavo anche di Legacy perché tu hai parlato di Alessio abbiamo parlato di Alessio prima assolutamente beh loro sono costruiti le tematiche horror alla grande loro oltretutto scenicamente sono incredibili tanto di cappello è ovvio che la musica deve essere l'arma vincente comunque perché se tu hai dei vestiti fighissimi sali sul palco e fai cagare no la gente ti prende cioè enfatizza quasi di più probabilmente un lato ridicolo piuttosto che un lato divertente quindi io ho la fortuna di suonare con gente che è veramente molto preparata a livello tecnica e anche musicale quindi insomma diventa un valore da un concerto si rende conto che comunque c'è della ciccia dietro assolutamente yes in ordine rigorosamente cronologico all'incontrare mi tocca ci tocca parlare per un attimo di Lione Conti che è uscito nel 2018 che cos'è come è nata questo è un progetto della label probabilmente è un progetto Frontiers non so all'interno se sia un'idea di Elio o di Serafino o di Mario non lo so però non mi ricordo sinceramente diciamo che a me piaceva molto l'idea nel senso di poter fare qualcosa con Fabio per unire un po' le anime c'è da dire che quando ho iniziato quando abbiamo deciso di fare questo progetto io ero coelucatore di Rhapsody e Fabio era ancora coelucatore di Rhapsody e però e all'epoca c'era un po' di gossip su una su una diatriba di rivalità tra i due Rhapsody cosa che in realtà non c'è mai stata almeno sicuramente né per me né per Fabio ecco né tantomeno c'è adesso penso tra Fabio e Rhapsody Fire con Giacomo così tuttavia abbiamo detto beh facciamo un disco nell'idea della label secondo me c'era quella di fare un album che ricalcasse un po' il discorso di Rhapsody esattamente però in versione italiana e quindi con noi due c'era in più anche il discorso dei due cantanti delle due anime di Rhapsody diverse e Mularone ha scritto la musica però la premessa che volevamo entrambi tutti quanti anzi non solo io e Fabio era non riproporre gli stilemi musicali epici o super power dei prima di Rhapsody piuttosto che dei Luca di Rhapsody perché non aveva senso nel senso che avevamo già avevamo le nostre band così quindi in realtà è un album che suona molto come nel sound che poteva essere più vicino a Allen Lande piuttosto che ai Rhapsody diciamo forse c'è molte atmosfere che ricordano magari Camelot o band un pochino più Power Prog e così e insomma penso che ci siamo divertiti è stato figo e chissà magari un giorno infatti secondo te è stato un one shot o forse o chissà no no nel senso sai non è facile coniugare anche gli impegni di tutti quanti soprattutto di Fabio che all'epoca era non so quanti concerti fece l'anno in cui uscì nel 2018 con gli Angra Rhapsody che con la F c'era più di 200 show una roba infatti anche noi avevamo delle proposte di suonare live l'album e qualche richiesta e anche dei festival e così ma non riuscimmo neanche a bastire delle prove quindi non c'era improponibile per tutti e quindi è nata così però mai dire mai per adesso non se ne sta parlando però magari Frontiers lo mette a dei progetti tra un po' e magari ci chiama tu sei comunque Ascoltando Frontiers Elio fatti tu con Fabio sei comunque in buoni rapporti sì sì assolutamente adesso non ci sentiamo perché comunque lui diciamo già abitiamo lontani oltretutto non si suona più da più di un anno quindi anche volendo non ci si incontra c'è neanche modo di incontrarsi magari per i festival dove ogni tanto capitava di vedersi però sì sì assolutamente stima ottimo andando indietro nel tempo beh qui ci dobbiamo dedicare per un po' a Luca Torilli che se lo merita assolutamente il botto all'epoca almeno a livello mediatico ovviamente fu molto grosso Luca Torilli lascia i rhapsody Luca Torilli fa i suoi rhapsody e ovviamente l'hype intorno al nome era enorme penso che tu ovviamente anzi mi interesserebbe avere la tua versione perché quando tu sapevi già che tu eri tu ma gli altri non sapevano che tu eri tu come ti sentivi cioè l'hai sentita un po' la pressione di sta cosa perché c'era tutto questo paragone a livello mediatico io mi ricordo che non si scriveva ad altro noi ai tempi c'era il toto cantante e tutto il resto te come l'hai visto? io non me ne sono reso conto tanto di questa cosa no diciamo che io ero molto concentrato alla preproduzione e a dare a dare il meglio insomma a fare un buon prodotto infatti penso che a Sign Into Infinity a livello di prestazione vocale penso che rimanga ancora uno dei miei dei dischi top ci sono dei brani che tipo Tormento e Passione Excalibur piuttosto che anche Luna come cover così sono a livello a riesco a tagli oggi a distanza di anni a livello tecnico espressivo vocale che mi piace credibilmente dico è registrato e anche le performance sono ottime e di tutto il resto non mi sono mai preoccupato tanto poi c'ho sinceramente la fortuna che con i tricortriti negli anni primi ho fatto talmente tanta gavetta che non è stato come buon reality show che passi da cantare a casa in tv che tutti ti osannano a parte che nel metal comunque anche se è stato un evento mediaticamente nel settore abbastanza importante al di fuori del metal non non ti hanno intitolato una strada ecco ancora no aspettano che muoia forse no adesso appena di alloca tra l'altro mi piacerebbe un giorno quando sarà cosa avere una strada sì sì te l'hai scelta già no no quella di casa mia ah quella tua proprio come shakespeare cioè proprio eh sì non lo sapevo quasi e insomma no però avevo già fatto un sacco di gavetta dei tour anche importanti perché comunque nuclear blast mi chiamò per per chiedermi se l'ho interessato a un provino con quello che doveva essere all'epoca un nuovo avosolista di turilli non si parlava ancora di split mi scrisse che ero in tour con gli Halloween di spalla quindi proprio era nel momento top della dell'esplosione anche del tricotrip era poco prima di rabbit seal sì sì era poco poco prima di rabbit seal sì sì e e niente quindi quindi la cosa che fu Fabio a suggerire il tuo nome a Luca non è vera no è vero verissimo sì sì è vero mi iscrisse a nuclear blast ma ovviamente sotto pressione di suggerimento di Luca che mi ascoltò su YouTube dei concerti live così però sai prima cioè ovviamente nuclear blast mi iscrisse io gli ho dissi ovviamente che ero interessato poi non ero dentro non ero ancora ufficialmente ma ho dovuto fare veramente tanti provini anche se Luca è stato abbastanza entusiasta sia da subito propositivo al top però comunque c'è stato ha fatto lavorare sì 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 assolutamente come l'hai pensato per lui questa cosa di fare mille provini no io mi sono divertito un sacco anche perché comunque ci riscrivevamo tutti i giorni ci sentivamo e è stato proprio cioè non era una cosa di un impegno era un impegno lavorativo nel senso che sapevo l'importanza di quello che poteva portare e di quello che non poteva portare se le facevo male quindi c'era un impegno grosso di serietà e professionalità musicale dietro ma si era proprio instaurato subito un rapporto di umano di cioè ci siamo proprio divertiti infatti ma tuttora con Luca ci siamo sentiti anche pochi giorni fa è una persona che fa fatica a non piacere anche se magari non è uno che si espone tanto mediaticamente e perciò non tantissimi conoscono lo conoscono a livello privato insomma super divertente super amichevole è stato veramente come fare una roba tra amici però insomma era Luca Trilli a livello molto da quando avevo 17 anni eh sì io mi ricordo quando poi ci fu il debutto di Dark Fate of Atlantis credo che fosse il primo video le prime immagini diciamo dei Luca Trilli su Rhapsody che ovviamente tutto era molto virato sul Dark no? c'era questa questa immagine molto diversa e te ti avevo visto fino all'altro ieri con il microfono con lecca lecca e la chitarra di peluche e la testa del cavallo no? mi ricordo che ne parlavamo fra di noi di come ci fosse stato questo cambio di immagine e tutto poi quando ho visto dei live quando ti ho visto anche live l'immagine i colori l'atmosfera era effettivamente quella però se mi passo il francesismo tu eri comunque lo socazzone di prima nel senso che ovviamente avevi il ruolo lo interpretavi però comunque la tua attitudine sul palco era molto easy magari a me sembrava anche un po' come se ti frenassi un po' se evitavi non lo so era una mia sensazione diciamo che lo show dei rhapsody era strutturato in una maniera che c'era poco dato all'improvvisazione quasi niente perché era tutto anche un timing strettissimo nel senso che comunque avevamo adesso non mi ricordo il primo tour ma il secondo tour avevamo 19 brani per 2 ore 10 di show una cosa del genere tutte le sere quindi la tassativa la durata sapevo che io magari tra il terzo e il quarto pezzo avevo 45 secondi per parlare quindi capisci che non è che si potesse fare l'attitudine non seriosa io l'ho sempre avuta perché comunque sia penso che chi va a vedere un concerto si diverte se vede la performance suonata bene ma si diverte anche se trasmette il divertimento poi c'è chi la trasmette in maniera diversa io mi sono sempre divertito molto sul palco ci sono state serate che magari eri stanchissimo perché comunque c'erano delle trance di concerti tipo sei concerti senza degli off dove viaggiavi tutte le notti dove magari i camerini erano quello che usano e non riuscivi a riposare bene perché comunque su un tourbass dormi su su un autobus con un materasso alto 10 centimetri quindi anche se io devo dire che ho sempre dormito abbastanza bene però non è detto che sei sempre al 100% anzi è difficile che tu sia al 100% e tuttavia quando salvo sul palco io proprio mi divertivo ma proprio mi divertivo anche vedere poi l'hai visto anche Luca sul palco lo spasso lui è in estasi mistica perciò ci divertivamo proprio poi finito le due ore di concerto sembrava come se hai fatto cinque ore di palestra che non ne puoi più però stai proprio bene da un punto di vista strettamente strumentale dovevi anche stare molto attento con la voce penso come sempre però quando il tour diventa così serrato il rischio di infiammazioni di raffreddori cazzi vari che insomma per un cantante sono molto più gravi che per un bassista tutto il rispetto per i bassisti assolutamente infatti ti dico che nei tour che ho fatto ma tutti i tour che ho fatto su un tour basso dove rimanevi per più di due settimane diciamo almeno è sempre successo che qualcuno si ammalasse di tosse febbre sempre io sono sempre stato fortunato però sono sempre stato molto attento nel senso per dire io una banalità una sciocchezza però in tour io esco sempre con la sciarpa sempre che è una roba da cantante da fighino però comunque sei lì per cantare per lavorare oppure banalmente ero finito il concerto c'era la regola non scritta che ero il primo a andare a fare la doccia e il primo a andare sul tour basso a dormire comunque sia va bene ci si diverte però sei lì per lavorare e insomma delle ore di sonno recuperi poi e lì anche lì la gavetta fatta con i tricortiti ha servito tanto anche in quello nel senso che tanti centinaia di concerti impari anche a gestirtela la voce ovvio che io non ho mai dato su un palco il 100% perché comunque se si dà il 100% lo puoi fare se hai un festival se sei bo al Wacken hai quella data lì e dopo torni a casa se sei in un tour di 22 25 date devi sempre andare al 70% diciamo e poi ci sono degli accorgimenti tipo non canto mai io ho piena voce canto sempre molto 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 leggero comunque il microfono a quello se tu canti forte o canti un po' meno forte se l'emissione ovviamente giusta e stai cantando correttamente non se ne può accorgere nessuno cioè se sei semplificato quindi però sono cose che magari naturalmente ti viene da cantare più forte perché ti viene da farti prendere oppure non ti senti benissimo però anche lì ci sono degli accorgimenti noi eravamo tutti con lini armonico con lini armonico sì quindi è difficile che trovi un locale in cui ci sono le spie che vanno poco o non vanno sì 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 certo ok queste cose di gestione è vero anche che si imparano con l'esperienza nel senso che assolutamente ma sono più importanti che saper cantare probabilmente beh penso proprio di sì penso che sia forse più importante quello sì effettivamente sì nel senso che poi la carriera te la costruisci facendo delle cazzate anche sbagliando delle cose sbagliando delle date si spingendo troppo e poi ritrovando diafono o mezzofono il giorno dopo dicendo oh col cazzo non lo rifaccio più sì ma fa parte cioè sicuramente io sono sempre stato fortunato ma capirà sicuramente anche a me però io per dire ho avuto l'insegnamento involontario di grandissimi cantanti molto più famosi e importanti di me che hanno fatto delle figure brutte e tipo mi ricordo abbastanza clamoroso fu il tour con gli altri è stato vario che il contipetto stava male salì un paio di volte sul palco chiedendo scusa e un paio di concerti gli saltarono poi dopo ovviamente dovevano suonare che non potevano ritirarsi dal tour e perciò fece il tour fece molte date con poca voce oggettivamente cioè affono però massimo rispetto io da cantante ho apprezzato molto ovvio che molte parti del pubblico dicono non ce la fa cantare oppure è andato male che schifo però da persona che fa quel mestiere lì è come se tu sei un pugile che sali sul ring lo stesso prendere le botte anche se hai mal di testa poi essendo come dire un collega è empatizzare perché lo sai passando quel povero Cristo in quel momento soffro sempre tantissimo e ci sono anche quasi sempre i concerti che saltano per motivi di salute anche gli Halloween recentemente non nel tour di Riunio quello un tour prima saltarono a delle date perché Darius aveva di problemi alla voce quindi succede ovvio che se salta un concerto di Tricor Treat dove il biglietto costa magari 10 euro con il bere lo recuperiamo se salta un concerto dove ci sono migliaia di persone che hanno preso un biglietto da 30 euro sei mesi prima è un problema anche la produzione ti fa delle pressioni peraltro parlando di cantanti mi è venuto in mente e parlando del fatto che alcuni riescono a gestirsi la voce meglio o peggio perché negli anni poi è anche fisiologico che la voce è uno strumento naturale e inevitabilmente non è che gli cambi le corde come alla chitarra quindi ha un suo sviluppo e mi è venuto in mente lo so perché sono cattivo mi è venuto in mente James Labrie che ovviamente sai che tu sai molto bene che insomma ha avuto una parabola tristemente discendente con lo strumento imputata a questo avvelenamento da cibo che ebbe nel 94 e poi tutto il resto non ne sapevo non lo sapevi? Labrie pare che si avvelenò mangiando delle ostri che non so bene in Giappone e vomitò tutta la notte poi il medico gli aveva castigliamente proibito di rimettersi a cantare lui invece aveva il tour in Giappone per l'uscita di Awake e disse vabbè fanculo io non posso perdere il tour e si è praticamente scassato la voce questa è la versione ufficiale che dà lui però effettivamente ascoltato oggi è penoso poverino cioè nel senso se ascolti mi ci sono Wards e Awake era in un picco pazzesco quindi il rischio è sempre dietro poi vabbè può piacere ovvio che se fai gestirsi la voce vale fino a un certo punto se fai tour da 250 date l'anno anche la gestione della voce diventa difficoltosa per quanto riguarda Labrie ma in realtà secondo me lui è stato molto antallenante live perché il studio è sempre abbastanza convincente secondo me però io mi ricordo secondo me per dire nei tour di Seas from a Memory era meglio rispetto a anni prima quindi probabilmente non è solo una questione anche di allenamento un cantante è come veramente come se fosse un atleta perché cantare implica un esercizio delle corde ai muscoli non le corde vocali ai muscoli che controllano le corde vocali quindi se sei molto allenato hai delle performance convincenti se anche tecnicamente sei stato un ottimo cantante ma non canti per un anno e mezzo quando riprendi sì c'è la memoria muscolare che ti aiuta ma se non riprendi gli esercizi cioè se non riprendi allenarti non ci arrivi più a essere convincenti come prima yes vabbè andiamo avanti con il nostro viaggio all'indietro stiamo quasi finendo e arrivo agli MC Tremor tu sei passato dagli MC Tremor ma sì ma in realtà MC Tremor non a livello ufficiale ma solo come come diottornista diciamo perché feci tra l'altro di Spalli di Rentia personale a Roma anche sì ho fatto dei concerti perché avevo conosciuto Oliverani prima e mi chiamò per cantare dei concerti dove il loro cantante Giovanni mi mandò via poi presero Oliver Hartman so che Oliver Hartman era ovviamente molto impegnato non riusciva a fare tutti i concerti allora per qualche concerto ho sostituito però io avevo vent'anni all'epoca poi non mi ricordo neanche le performance ma non credo che fossero entusiasmati diciamo ok e poi ancora indietro di Opera sì Opera era proprio una band della Romagna che era prodotta da Oliverani l'ho conosciuto Oliverani e proprio in quel contesto lì e collaborai con loro poi non siamo riusciti a fare niente discograficamente parlando perché comunque erano anni molto diversi da oggi fare un disco era ancora una fase in cui dovevi trovare una label che investisse così facciamo un demo una preproduzione non era un demo era proprio il disco preprodotto che secondo me assomava anche piuttosto bene però sì non riuscimmo facciamo qualche concerto mani di più e poi mi ricordo che sempre con Oliverani collaborai con Genius la metal opera che fece e registrai tutte le parti di Genius e poi dopo le mie parti le canto a Mark Bosch e come mai? perché era più famoso più figo più bravo comunque è sempre nella fase abbastanza inesperto e derivato come cantante mi servì per fare un'esperienza fu un'esperienza un po' fine a se stessa diciamo la settimana scorsa ho intervistato Roberto Tiranti che peraltro ha parlato benissimo di te e abbiamo parlato di te nell'intervista e in particolare a proposito delle collaborazioni delle guest nei dischi degli altri perché lui è uno di quelli più più gettonati e tu sei un altro di quelli più gettonati lì usci il tuo nome e Roberto mi disse anche della stima che ha per te come cantante e a lui feci la domanda che faccio anche a te cioè c'hai un criterio per scegliere dove fare la guest cioè se ti chiama il gruppo X ci vai lo stesso perché è lavoro o comunque hai dei criteri a cui non transigi per cui certe cose non le fai se non sono serie abbastanza o se non lo so no innanzitutto ricambio la stima per Roberto che è un amico era uno dei miei cantanti preferiti io l'ho raccontato io l'ho raccontato a lui la prima lezione di canto andai con con chi però The Seven Kings parte 2 Return to Day and the Night come ci dì la mia maestra e disse ci proviamo non lo so però fu e che dire no a me non piace sinceramente fare le guest lo faccio solo se rispetto un paio di criteri in senso se il progetto è figo musicalmente non è neanche tanto un discorso economico perché comunque non sono nella fascia di cantanti che chiede un muoto di soldi però è proprio una questione o di amicizia nel senso recentemente ho fatto una guest per gli Stranger Vision che è una ben nuova qua di Modena che sono molto bravi quindi ho fatto anche la copertina è poetica esattamente l'album ok ti ho dato non mi ricordo 9 perché c'ero io esatto esatto però Ivan è cantato ci conosciamo da quando abbiamo 15 anni quindi lui ha sempre cantato si è sempre sbattuto un sacco non è mai riuscito ad arrivare a livelli alti e sono molto contento che ci sia arrivato adesso ossia talento c'è e la voglia di più quindi e lì l'ho fatto molto volontieri sennò contesti dove sono a livello promozionale fighi ho cantato recentemente con Marius però stavo per dire infatti io ho recensito anche quello di Marius Danielsen sì e lì è stato divertente perché comunque anche riascoltando il disco ci sono veramente un sacco di cantanti fighissimi e lì fa proprio piacere essere far parte del roster oppure un'altra cosa che deve uscire che ho cantato recentemente c'è il nuovo album di Nanoware Still che uscirà questo in realtà credo e lì ho cantato una cosa molto molto divertente lì ovviamente Nanoware anche lì li conosco personalmente e poi lì ero in debito di favore perché con Prince Valiant se si dice così e cantò perciò mi hanno richiamato avete fatto il pareggio gli ho reso il favore esatto peraltro hai fatto anche il guest come disegnatore perché hai fatto anche un artwork nuovo per il suonata artica confermi? sì 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 ho fatto un artwork però celebrativo per i loro vent'anni di carriera e quindi hanno fatto una maglietta del merchandising così l'avevo già avevo già fatto qualcosa per loro una maglietta e anche lì con loro siamo stati in tour insieme abbiamo legato molto devo dire ci sentiamo non spesso ma comunque sempre molto volentieri e quando vengono l'Italia sono sempre tornati a vederli ecco diciamo allora la domanda la prossima domanda te la devo fare per forza sta per uscire il nuovo disco degli Halloween intitolato Halloween dove ci sono sette Halloween come le Seven Keys del Keeper l'hai sentito in anteprima? ah no non faccio una lista hai visto il video della canzone nuova? sì sì no molto bello Skyfall è figo no secondo me sarà una bomba dai poi e c'è molta attesa anche per me poi Kiss è un po' di brutto ancora quindi ecco parlando prima di cantanti che si bruciano la carriera cantando male lui adesso dei Grand Tour non ne ha affatti negli anni diciamo che si è osservato anche perché non ha cantato tantissimo live però proprio anche perché non canti tanto live non è scontato che tu quando torni in studio canti io e il tuo cantante preferito degli Halloween chi è? beh Kiss tutta la vita e per te Kai Hansen è un cantante degli Halloween o è un chitarrista? no no ma cantante cioè io chitarrista ovviamente ma Kai Hansen è come Vasco Rossi per il rock italiano no Vasco Rossi è un gran cantante no però canta e ti piace lo riconosci subito ti piace scrive le canzoni che la gente dicono figata mi riconosco allora quando quello è un grandissimo valore aggiunto quando un cantante riesce a piacere senza aver bisogno di una particolare dote canora o una tecnica particolare e avercene purtroppo purtroppo sono molto più famosi spesso questi cantanti qua adesso recentemente ieri è morto Battiato è un altro cantante incredibile c'è cantante incredibile cantante non è un cantante incredibile sicuramente però ha scritto della roba talmente figa talmente anche avanti quei tempi che anche sono un cantante incredibile è riuscito a diventare un cantante incredibile quindi trascende la 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 mera tecnica bene è un'ora che parliamo andiamo a tirare le somme allora alla fine delle mie interviste c'è sempre il fuoco di fila quindi adesso ti faccio una serie di domandazze a raffica intanto facciamo un po' di vero e falso tipo quelli fighi di wikipedia factor fiction perché sono invidioso e quindi lo faccio anch'io allora tu ti chiami alessandro conti puoi confermare vero vero sei nato a sassuolo l'otto otto millenovecentottanta quindi hai un legame particolare col numero otto otto anni nell'ottantotto pensa un po' è una sei uno che a cui piace la te robe dei numeri ti cintrippi oltre no non mi sono mai intrippato tantissimo su numerologia neanche su cose troppo però qualcosa sai dai però questo otto diploma universitario in disegno anatomico all'università di Bologna sì medicina Bologna sì yeah e disegno anatomico chirurgico sì sì sarei un illustratore scientifico che fa gli atlanti medici per gli scorticati per i dottori no sei presente assolutamente sì da cui in human anatomy di cui parliamo tra un po' ho scoperto che abiti in un posto che è famoso per la lavorazione del maiale del puerco ma dove non c'è la ferrovia ho scoperto a Casse Nuovo Rangone Casse Nuovo Rangone sì sì è l'unico posto al mondo dove c'è la statua di un santo San Francesco davanti a un solumificio e c'è la statua di un maiale di fronte alla chiesa beh questa red torna a chicco qua lascerei dei puntini tipo 5 secondi di silenzio di mettere che facciamo ok maiale di Casse Nuovo cercatelo su 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 google maialini di Casse Nuovo eccezionale io da da grande mangiatore di maiali devo assolutamente approfondire l'argomento tatuatore professionista il tuo lavoro il tuo altro lavoro a tutti gli effetti diurno diurno sì pomeridiano anzi visto che i problemi che abbiamo avuto per riuscire a organizzare questa intervista al momento lavori a ubersetto di formigine ma è una cosa ti cerchi i nomi strani o versetto di formigine figo sembra potrebbe essere tipo un nobiluomo del quattrocento versetto sì no in realtà è un piccolo una piccola frazione della ridente cittadina di formigine e insomma pochi chilometri da Modena ci si trova su DeviantArt in particolare appunto con fra le altre cose con i Newman Anatomy che è magari anzi te lo faccio dire a te che cos'è il Newman Anatomy è una serie di illustrazioni come iniziate a fare boh dieci anni fa secondo me ed è proprio il proseguimento degli studi che ho fatto anatomici non il disegno anatomico però ho fatto le tavole mediche scientifiche applicate al posto che sui soliti modelli umani l'uomo il divino quello che è sui personaggi dei cartoni animati piuttosto che fantasy o comunque icone insomma di videogiochi e roba del genere quindi trovi Mario Bros sezionato piuttosto che Yoda la decezione è un po' un modo divertente però insomma di applicare quella cosa che non ho mai esercitato a livello più lavorativo perché comunque sia mi piace fare anche altre cose tra cui ovviamente il cantante però vi consiglio di andare a vedere lo Spongebob che a me mi ha un po' segnato me lo sogno hai vado avanti hai un figlio di 12 anni che ha fatto da poco peraltro ho visto auguri che si chiama Morgan possiamo dire il nome hai un carlino di nome Gojira e poi ho anche un altro figlio di 6 anni che si chiama il nome del piccolo Sebastian e basta ciao Sebastian ciao Morgan io sono hai da poco tatuato un virgo sul braccio di un altro cantante nella gamba sulla gamba di Marco giusto Marco Pastorino ho visto che i tuoi i tuoi cavalieri dello zabbico stanno avendo un successo pazzesco tra i tatuaggi che fai mi fai un sacco di sì sì è un po' la mia nel diciamo nel tatuaggio mi piace fare più lo stile cartoon anime o comunque colori diciamo e è figo per Marco è stata una figata comunque mi ha chiesto il virgo che avevo l'illustrazione che avevo realizzato per per il tricotriti per la canzone virgo quindi poter fare un mio disegno tatuato su mio ricchissimo amico che oltretutto è anche musicista figo è proprio figo figo allora andiamo a concludere con le domande del pubblico ossia ho raccattato in giro delle domande degli ascoltatori dei lettori di metal.it e te le giro così come sono i tre cantanti metal inarrivabili per te non è facile questa diciamo Ronnie James Dio al primo posto perché perché è lì e Kiss che lo menzioniamo così l'abbiamo già fatto facciamo lo sgarbo e ce ne sono tanti piazzami matos beh non non solo per la voce ma anche a livello umano hai dei ricordi belli sì sì assolutamente proprio una gran persona e poi musicista fighissimo totale ok il miglior brano secondo te degli Iron Maiden o meglio la miglior performance di Bruce Dickinson miglior performance o miglior brano allora aspetta ci arrivo perché ce ne sono un po' però mi ricordo uno dei migliori brani Flash of the Blade uno dei miei preferiti però aspetta eseczai miglior performance è beh dire Flash of the Vicarus miglior perfetto ok stessa domanda per gli Halloween miglior brano o miglior performance di Kiss o Deris se ti posso fare Era Kiss che era Deris dai vai partiamo con Era Kiss che miglior performance anche più difficile diciamo We Go The Right come brano era il più difficile da cantare e il miglior brano il più difficile io ti dico Keep the Seven Keys ok Ed Eris invece è più difficile perché comunque ha forse più sfumature ma ti piace la tua voce sì sì assolutamente assolutamente miglior brano però ti direi boh ci sono tanti il primo che ti viene direi qualcosa Soul Survival o Wander Ingross anche la bella vado avanti il brano dei Trick or Treat miglior come fai dire miglior come fai con figli tuoi però insomma Great Escape ok la band che proprio non sopporti non te lo dico dai dai mi suggeri è italiana è italiana ok vabbè il miglior robottone della storia questa domanda l'ha fatta Sbram il nostro lettore ok sì sì il miglior robottone fammici pensare un po' io vado contro corrente perché non è un robottone però è un robottone ma non è della canonico ti dico Voltron però ti dovrei dire da Itar una roba del genere però avevo lanciato una specie di sondaggino fra gli amici Voltron è gettonatissimo ok ok allora va bene però perché sai non è Voltron in realtà è una una produzione come ci è arrivato a noi una produzione mezza rielaborata americana quindi dovrebbe essere che l'originale era Goliath era Goliath sì da Gonagai così dovrei dire secondo me Gigrobo era molto figo anche se ho scoperto che in Giappone è il meno è considerato il fatto di Gonagai è abbastanza poco cagato invece i Mazinga per esempio in Giappone sono tipo delle sì sì poi c'è in Giappone c'è Gundam che qua in Italia secondo me non ha mai sfondato di brutto c'era il cartone così e là è veramente ovunque ma lì c'entra molto anche la mentalità è proprio è una cosa molto più giapponese Gundam c'è dietro un sacco di roba che ha a che fare con la bomba atomica che ha a che fare con tutti i robotoni un po' da Godzilla però effettivamente Gundam è il più patriottico anche come colori c'è bianco e rosso di solito i protagonisti dei manga sono quasi sempre degli anime anzi sono quasi sempre quei colori della bandiera giapponese questo me l'hanno spiegato graficamente effettivamente pensa Pegasus per dire l'armatura bianca e il sottorosso che rappresentano l'anima del Giappone il protagonista ma pensa e infatti se ti pensi quasi sempre quasi sempre così spiegata prossima domanda che ha a che fare con i cartoni animati di nuovo i tre cartoni animati che andrebbero insegnati nelle scuole pochi perché quelli che vedevano erano tutti super diseducativi cioè oggi giorno si fanno un sacco di polemiche su tutto ma non hanno mai visto quelli che vedevamo noi non li darebbero Giorgi no ma anche l'uomo tigre e le botte e il sangue sì no no infatti però quelli delle bambine guarda sono ancora peggio cioè sono veramente a livello erano violenti a livello psicologico invece anche Giorgi i bambini Giorgi chi era? Giorgio Candy Candy che si era Giorgi che si ingruppava cioè il fratello la scaldava c'era una roba in cestù penso che fosse censurato perché comunque in Italia arrivano censurati però penso che nella versione originale andasse proprio i fratelli che poi non erano fratelli era adottata quindi forse lei non lo sapeva vabbè comunque è una roba abbastanza cringe ok vado avanti sport praticati o seguiti in tv ne parlavamo fuori onda adesso è il tuo momento di splendere chissà no praticati ho fatto palla a volo per una decina di anni e seguiti pure cioè il calcio mi interessa veramente poco e per fortuna perché sono il cibo il cibo degli dei qual è il cibo più buono del mondo è pizza non si scappa fratello non mi chiedere il gusto perché dopo no 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 la bevanda invece degli dei qual è è la bevanda la birra però a me piace molto anche la coca cola ma adesso mi do una contenuta a berla perché è una scherchezza però per tanti anni è buono buono un coca e birra quando si suona forza però non sono anche il vino mi piace però solo da pasto cioè non riesco a berlo se non mangio il vino per fortuna se no sarei superutilizzato dunque penultima domanda religione sì o no 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 cioè in che senso religione a scuola o tu enti la necessità no credi in qualcosa non sono sì sì assolutamente la teoria degli antichi astronauti buttala via tanta roba beh promette us dai forza eh che cazzo ok al tuo figlio anzi ai tuoi figli a questo punto piace quello che canti sì sì assolutamente sì sì soprattutto Morgan che è più grande è proprio super appassionato e e anche discreto conoscitore già di musica per l'età che ha quindi e quando sente pezzi in macchina così riconoscere ma mi piace proprio ok ok per adesso non suona niente perché comunque 12 anni per la voce sicuramente è presto e per uno strumento non non ho detto che sia presto però insomma non io ho sempre pensato che il processo di insegnamento di qualcosa non deve essere forzato quindi perché se sei costretto a farlo non lo fai con passione quindi se c'hai bisogno io per dire ho iniziato a cantare a 16 anni e non avevo mai cantato prima ero stonato come una campana poi dopo mi hanno fatto scoprire la musica metal a 15 anni e proprio mi piace incredibilmente e poi poi ti ho detto anche giocando giochi di ruolo così era proprio una tempesta perfetta tutto allineato e lì mi sono appassionato nell'arco di pochi mesi avevo già imparato a cantare più o meno come adesso ok allora abbiamo finito io non so come ringraziarti è un'ora e passa che parliamo è andata via così con un filo di gas grazie ancora di essere stato con noi qui a Metalit grazie a voi è stato bello come sempre all'Hot Songs che è uscito venerdì 21 maggio per Scarlet Records Alessandro grazie e spero di risentirti presto e di rivederti presto grazie bravo e ci si vede presto grazie mi raccomando ascoltate All'Hot Songs che vi piagerà Carlo ciao 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 ciao